No, però sto sempre a Marina, allora la faccio la macchina, perché? Ah, da quello che ho posto lui, grazie. Bene, volevamo andare a fare la macchina, ma dopo le ho proprio vinto nella macchina, perché c'è la macchina della gara. Bene, la faccio la pagheria. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 Sì, stava andando verso il 50, ciao. Diciamo uno buono, uno tremendo e uno per la famiglia. E a me mi sembra che è qui. Sì, stava andando. 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 Sì. Sì. Sì, stava andando. Sì. Sì, stava andando. 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 Sì. Sì, stava andando. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... 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 ... ...